Sarà attivo dal prossimo anno accademico il corso in farmacia che va ad ampliare l'offerta formativa del territorio ionico che ad oggi esprime nove corsi di laurea triennali, quattro magistrali, due corsi di laurea ciclo chiuso. Un risultato importante illustrato nella sala convegni dei BAC alla presenza delle massime autorità civili militari e del mondo accademico. Una nuova immagine di città attrattiva anche da un punto di vista formativo? Devo dire che ci siamo abituati in questi ultimi anni a tanti cambiamenti importanti. La città si sta trasformando e le trasformazioni sapevamo che sarebbero passate anche per il ruolo dell'università, della cultura, della ricerca perché per cambiare pelle rispetto al nostro modello economico emanciparlo da certe monoculture che ci hanno ferito e hanno ferito le nuove generazioni il sistema di imprese e bisognava investire in questi ambiti. Non a caso presentiamo questo nuovo corso che ha già di per sé una sua attrattività verso i giovani e verso l'utenza anche di altre province e di altre regioni. Un passaggio determinante per la costituzione di un polo universitario ionico che l'Università Aldo Moro sta collaborando a costruire e che si amplia di un altro percorso formativo. Rafforzare la vocazione universitaria della città di Taranto è importantissimo, abbiamo promosso e stimolato l'Università di Bari a lanciarsi in questo nuovo progetto, ci siamo riusciti, siamo anche disponibili a sostenerlo dal punto di vista finanziario, mi dicono che servirebbe un milione di euro per rafforzare la capacità assunzionale dei docenti, ovviamente se l'Università dimostrerà di avere davvero bisogno di questi soldi la Regione è disponibile a metterli a disposizione. Oggi si raccolgono i risultati. La consacrazione, l'impegno durato molti mesi di un lavoro fatto a volte anche sotto traccia, quindi non alla ribalta e alla luce dei riflettori. Come è giusto che si faccia in queste circostanze? Oggi finalmente ufficializziamo l'apertura a Taranto del corso di laurea in farmacia pensando, anzi siamo quasi certi con un pizzico di presunzione, di offrire un'opportunità di scelta in più dal punto di vista formativo universitario ai ragazzi che si approcciano a entrare nel mondo dell'Università. Oggi si scrive un altro piccolo capitolo, una pagina di storia per la nostra bellissima città e l'avvio di un corso di laurea è importante dal punto di vista della formazione, dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico.